Risposte ancora una volta insufficienti da parte del Governo e dell'Esecutivo su crisi aziendali, nello specifico crisi aziendali di Idra Standard di Orcinico in provincia di Pordenone. Rischiano il posto entro fine mese 400-450 persone. Il Governo, il Ministro Poletti e la Presidente Serracchiani facessero qualcosa immediatamente con un tavolo di lavoro anche in Friuli Venezia Giulia per salvare questi posti di lavoro.